Lukashenko, l'attuale presidente della Bielorussia, parla di Russia e avrebbe detto proprio che le tanzioni contro questo paese della Russia sono peggio di una guerra. La Russia in fiatti viene spinta addirittura, secondo Lukashenko, verso una terza guerra mondiale, verso un terzo conflitto mondiale. E avrebbe giunto poi, in una situazione come questa che stiamo vivendo, dovremmo essere più consapevoli che ci sono tali tanzioni. Si parla tanto di settore bancario, di petrolio, di swift, di gas o, peggio, di guerra. La Russia viene quindi spinta verso un terzo conflitto mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga destra perché la guerra nucleare è la fine di tutto. Insomma, non sono parole dolci, belle o simpatie quelle che Lukashenko va a tenere che in qualche modo proiettano in scenari tristi futuri che potrebbero eventualmente esserci. Mi auguro che non ci saranno mai. Detto ciò, grazie a tutti i utenti di Youtube, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente, se ricorderà una guerra nucleare, sarebbe, come dice lo stesso Lukashenko, la fine di tutto, non soltanto della Russia o del Stato nucleare, ma di tutto il mondo. Perché la guerra nucleare porta alla fine di tutte le nazioni unite. Grazie a tutti, da Leandro Narrato Italiano.